Noi abbiamo due punti sui quali non abbiamo fatto richiesta nominativa ma abbiamo detto cosa pensiamo noi. Alla giustizia noi vogliamo un garantista. Non potremmo far parte di un governo che metta un giustizialista alla giustizia. Noi vorremmo qualcuno che per la propria biografia, per la propria storia, per le cose che ha detto, per le cose che ha scritto, per le cose che ha fatto fosse percepito dall'opinione pubblica come un garantista. Sull'economia è chiaro che essendo il cuore vivo della proposta politica del nuovo centrodestra tendente a superare la crisi economica e quindi la questione è fondamentalmente economica. Noi vogliamo qualcuno che non sia in dissenso rispetto alle nostre proposte ma che in testa sua e in cuor suo le condivida. Quindi chiederemo al presidente incaricato di suggerire dei nomi che per la loro storia siano compatibili con le nostre proposte, non incompatibili con le nostre proposte che ad ogni evidenza sono proposte di centrodestra. Un Montezemolo potrebbe andare bene? No, guardi, il Totoministri lo leggiamo sui giornali ma non lo pratichiamo. Vorremmo, lo dico con profonda convinzione e soprattutto su questo abbiamo lavorato in questi 70 minuti lì dentro, noi vogliamo realizzare i capitoli più importanti della rivoluzione liberale che il centrodestra del passato aveva promesso e non è riuscito a realizzare. No a un governo di sinistra o di centrosinistra. Noi vogliamo che questo possibile nuovo governo nasca con la stessa maggioranza che ha sostenuto il governo guidato da Enrico Letta. Se c'è la stessa maggioranza per noi va bene, se si allarga a sinistra per noi non va bene. Mi pare di poter dire che su questo argomento è emerso abbastanza chiaramente che vendola non c'è e quindi questo possiamo ritenerlo un primo scoglio superato. Noi stiamo preparando il foglio XL, cioè siamo stati noi a dire al presidente incaricato che il foglio XL lo chiediamo noi. Noi staremo dunque al governo se la voce del centrodestra sarà alta, chiara, forte, riconoscibile dentro il programma e per essere alta, chiara, forte e riconoscibile occorre che ci sia un foglio XL che con parole chiare contenga le nostre proposte programmatiche. Abbiamo chiesto e ottenuto che concluse le consultazioni, quando sarà venuto fuori chi è pronto a dare una mano d'aiuto all'Italia contribuendo alla formazione di un programma di governo anticrisi che possa superare lo scoglio del Parlamento proponendo al Parlamento e all'Italia un programma di contrasto all'uscita, di contrasto alla crisi economica, di uscita alla crisi economica. Bene, quando domani saranno chiare le forze che sono pronte ad un tentativo di questo genere noi abbiamo chiesto e ottenuto che queste forze si riuniscano domani pomeriggio per vedere se vi è compatibilità tra i programmi. È inutile girarci attorno. Se vi è compatibilità dei programmi si può immaginare di fare un governo perché la maggioranza la stiamo immaginando esattamente uguale a quella che ha sostenuto il precedente governo. Se non vi è compatibilità tra i programmi noi spiegheremo agli italiani la ragione per la quale questa incompatibilità ha reso impossibile la nascita del governo. Dettate i vostri punti ancora oggi, però se si andasse al voto secondo molti sondaggi insomma voi non riuscireste, sareste molto a rischio. Ecco, siete nella posizione di dettare condizioni? Guardi, noi non abbiamo paura di nessuno sbarramento. I sondaggi ai quali lei si riferisce fanno i conti con la legge elettorale venuta fuori dalla Corte Costituzionale e noi supereremmo agevolmente tutti gli sbarramenti previsti. Non avremmo necessità di stare in coalizione, li potremmo superare da soli.